Stai parlando degli uomini e del loro comportamento? Stai parlando di questa società del capitalismo e dello sviluppo industriale o delle nostre canzoni? Stai parlando del tempo, delle stagioni che passano o delle nostre canzoni? Forse prima avresti dovuto colpirla davvero! Noi vi salutiamo con questo brano perché c'è la musica rock che sta cominciando anche di là, quindi dai ragazzi ciao a tutti, noi siamo i Lothar, viva la musica rock anche un po' la vita e la tecnica. Sì, come il mondo è un'altra rivoluzione, mi conquistò il piede sceso il cielo, mi è un peccino, mi sono nascosto nel mio cartone per scappare, senza dimenticare. Se qualcuno rimetti al posto, non se ne va, non è un posto che vende a tutti, da su un cesso in pomeriggia, da su un cesso in pomeriggia, da su un cesso in pomeriggia, affacerò il tuo concerto. Sento aerei che parto forte, io invece non parto mai, lei domani la mandiamo a lavorare, in una miniera in Sardegna, sicuramente riuscirà a produrre. E da su un cesso in pomeriggia, da su un cesso in pomeriggia. Grazie.